Gico è un brand di cucine professionali per l'alta ristorazione, qui a Host 2017 ha presentato una nuova linea caratterizzata da ergonomia, funzionalità e facilità nella pulizia e nella manutenzione, tutte caratteristiche che però non vanno a discapito dell'estetica. Così come uno chef pone estrema cura a ogni dettaglio di quello che mette nel piatto, così Gico pone grandissima attenzione a ogni dettaglio dal punto di vista del design. Due esempi sono la cucina mia, completamente personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente e il forno Cosmo che è perfetto sia per le preparazioni gastronomiche salate sia per l'esigenza della pasticceria.